Non ho la memoria che mi viene male a prendere Dove essere una cosa veloce Esatto Bravo, complimenti Andiamo a fare cambio con lui Dove l'albitro? Dove, dove? No, per cavalli Mamma, andiamo a dire Sì, in questa zona Bravi Bravi No, no, ehi si che fanno La devo andare nelle mani più Buona luna Arco, stai sempre sull'otto Facci, vai sull'otto Stacci di sopra Giusto Facci Qua Torniamo Torniamo Dai, 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 rientriamo Piano piano Fai chiamato Torniamo Buona, Berti! Buona! Buona, buona, buona! Buona, 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 buona! Oh Antone devi scattare! Ale! A posto Ale! Oh Antone! Deviai! 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 Poro? Dioeee! Ah! Dio! Dio! che cosa Mario non ce l'ha l'arbitro ha portato le cose qua al cambio 20 secondi non ho idea penso che una decina di minuti è un maro semplice